Per quanto riguarda gli obiettivi futuri, sicuramente sono molto sfidanti. Abbiamo abbracciato quelli che sono gli obiettivi europei, quindi grazie anche all'appartenenza al nostro gruppo abbiamo individuato l'abbattimento del 35% ulteriore entro il 2035, così come una emissione zero, quindi zero emissioni entro il 2050. È importantissimo oggi parlare di queste cose in maniera aperta, trasparente, perché l'informazione che deve arrivare ai consumatori deve essere chiara, trasparente e sicura.